La prima cosa che farete, se siete eletti, la prima cosa, qui mi sembra già aver capito il discorso della partecipazione. Assolutamente, priorità assoluta nella regolamentare la partecipazione e far sì che non ci sia quel distacco tra il palazzo e la città. Il derby che c'è stato in città su mille temi, invece costruire dei tavoli di dialogo, dei tavoli di confronto, anche su chi la pensa diversamente. Questo credo che sia decisivo, far sì che, e io su questo concordo anche con quello che ha detto Manfredini, cioè un'attenzione maggiore alla nostra città e anche da parte, io dico, troppe si sentono le lamentele. Molto spesso sarebbe importante che anche il sindaco si facesse qualche giro perché è troppo evidente quello che non va nella nostra città. Ma io ho una cosa più complessa, però sperando che sia approvato il PUC, l'attuazione appunto del PUC perché è uno sguardo nuovo verso una città del futuro. In questo sono d'accordo con Massimo, nei primi 100 giorni approvare il regolamento che è stato, attuare il regolamento che è stato approvato già per la partecipazione. Grazie a tutti!